...dare estremo all'altro da una delle prime a una delle ultime che abbiamo scritto nonché la prima che canterà per intero il nostro Nicola un applauso Nicola grazie questa canzone si chiama Run It e se volete anche correre un po' verso il palco siamo brutti ma non vi mangiamo ragazzi va tranquilli buttiamo, siamo brutti ma non vi mangiamo come on non vi mangiamo non vi mangiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti